Nel mio video dirò qualcosa che starà qui, su metà dei tiktoker mondiali. Il tiktoker, la maggior parte, è solo gente che secondo standard, che non si sa chi li ha messi, vengono rappresentati come belli. Solo la gente così fa like su tiktoker. Infatti la gente che è scritta qui sopra, sono quelli che non sanno fare un cazzo ma prendono like perché sono solo belli. La persona. Non gente che sa editare, che sa... che è brava, no. Non gente intelligente, gente scema. Perché almeno il 75% di questi qui sopra sono scemi. Il 75%. Io lo devo dire, tiktok fa cagare. Perché solo sta gente qui riesce a avere successo. La gente brava, no. Perché tiktok fa schifo in questi ultimi tre anni. Che metà di voi a questo punto hanno già bloccato il video. Perché a parte alcuni non avrebbero voglia di vedere tre minuti di video. Ma gli altri sono andati perché non gli va giù. Perché sono di bambini. Anche se avranno 20 anni, 30 anni. Boomer. Ma anche se sono più piccoli, da 13 anni in giù tu non devi avere tiktok. O se no io prendo e ti denuncio. Fine. Tanto posso. Poi chi è rimasto perché adesso è arrabbiato e vuole continuare a vedere il video. Dato quei tre minuti abilitati. Invece il resto è rimasto perché capisce quello che ho detto. Adesso che ci sono le live su tiktok, c'è la gente, ci sono anche delle persone mature, che rimangono nelle live di tiktok per farsi vedere. Farsi vedere intendo, avete capito. Sì, sia minorenni che maggiorenni. La gente che è arrivata a livelli altissimi è solo perché fanno balletti di merda, stanno in costume mentre fanno i tiktok perché il ragazzo vede... avete capito, vede tette i culi e guarda il video. La ragazza vede i muscoli e va a vedere il video. Infatti si vede a che limite siamo arrivati. Un social di merda è diventato. Bannatemi il video, dai, bannatemelo. Questo dimostra che ho ragione. Se il video viene bannato, vuol dire che io ho ragione. Se il video non viene bannato, vuol dire che io ho ragione. Libi Rosica.